ultimo ma non ultimo guardate che bellissima ametista che ho acquistato questa ametista proveniente dal Mozambico di nuovo in questo caso valeva mi pare circa 50 centesimi un euro al grammo e buongiorno appassionati di minerali il mio nome è Matteo e vi do il benvenuto all'interno del mio canale youtube luogo dedicato alla mia passione cioè la realizzazione di gemme sfaccettate cabochon a partire da minerali grezzi naturali o sintetici all'interno di questa playlist vi insegno a riconoscere i vari minerali grezzi presenti sul mercato parliamo anche di prezzi parliamo di tutte quelle qualità per riscernere un buon minerale di partenza rispetto a un minerale di scarso valore infatti sul mercato sono presenti milioni se non miliardi minerali grezzi differenti pronti per essere acquistati per realizzare però gemme sfaccettate di elevata qualità pregio sia ad aggiungere la propria collezione oppure da rivendere gioiellerie è necessario mettere le mani solamente su quei materiali ritenuti pregiati e questi materiali possiedono delle caratteristiche in questo video in particolare parleremo dei minerali acquistato di recente alla fiera mineralogica di Euro Mineral Expo 2023 tenutasi a Torino infatti all'interno di video come questi illustro attraverso i miei acquisti e anche attraverso gli acquisti dei miei studenti i quali vengono qui in laboratorio con me a tagliare gemme preziose alcune delle caratteristiche che secondo me sono molto interessanti innanzitutto una domanda perché condividere tutto questo sapere qui su YouTube? YouTube è un luogo ideale per condividere con voi tutte queste conoscenze questi video una volta pubblicati rimarranno online per anni e quindi con i quali arriveranno tra 5, 6, magari 10 anni su questa piattaforma e cercano questo contenuto ecco che troveranno un video in merito e un modo di scrivere la propria conoscenza invece che su pagine di carta, tra l'altro ho scritto anche di libri a proposito nel momento in cui fossi interessati, trovi tutti i link sotto in descrizione è un modo, dicevo, di condividere la propria conoscenza di trasmetterla e di porla online, di fissarla nel tempo attraverso chiaramente un video all'interno di questa playlist dedico il mio tempo a parlare di minerali grezzi parlare delle rotture e le loro caratteristiche in questo video in particolare parleremo di prezzi rispetto invece al peso del minerale parleremo anche un po' di caratteristiche dei minerali grezzi ma non è questo il video, ci sono altri video che vi lascio qua sopra in dettaglio infatti il minerale grezzo è un minerale importante per la redazione NGM vediamo ora che cosa ho acquistato andiamo a vedere più in dettaglio questi piccoli lotticini minerali che ho acquistato in fiera, l'Euro Mineral Expo e anzitutto ho acquistato questo topazio da un mio vecchio fornitore in poche parole questo topazio è un topazio alquanto grande proviene dal Messico, un bel colore come potete notare una volta posto qua sopra il mio sfondo bianco notate che è un colore rosaceo tendente al bruno ma soprattutto è particolarmente grande e pesante proprio interno vedremo tra poco che contiene qua e là qualche frattura, qualche inclusione, vedete qualche piuma si trattano sostanzialmente di inclusioni fluide ma questo pezzo è molto interessante per poi realizzare una gemma o più molto grandi 20 euro direi che è essenzialmente un buon affare ho acquistato di conseguenza in un altro banco queste piccole tormaline scegliendole una ad una all'interno di un contenitore in fiera è consueto infatti spendere molto tempo nei banchi dove si possono trovare minerai di questo tipo delineando quelli più da taglio, sostanzialmente quelli più grandi di un bel colore e con ottima trasparenza queste tormaline provengono dall'Afghanistan sono tormaline indicoliti in poche parole possiedono questo bellissimo colore azzurro proprio interno e lo scelte una ad una considerate che lo pagate 3 euro l'una quindi è essenziale quando si acquistano questo tipo di minerali acquistare solamente quelli che potrebbero essere utili al caso vostro sempre al medesimo banco ho acquistato queste fantastiche apatiti due minerali più che altro per la propria collezione perché l'apatite considerate che ha una durezza 5 però vedete che effettivamente sono apatiti alquanto trasparenti ma con questo bel giallo lime infatti li ho acquistate proprio per questo loro bel colore e anche hanno una bella pezzatura tendenzialmente l'apatite non è un minerale molto denso e quindi in questo caso specifico soprattutto notate come secondo me verranno fuori delle belle gemme magari questo è un taglio un po' più tondo questo qui invece da capire un attimo dove prendere il minerale inoltre all'interno dell'otto questi erano i cristalli più trasparenti 5 euro l'uno diciamo che di nuovo anche qua un bel affare ho acquistato in un altro banco di nuovo un fornitore di lunga data al quale saluto questi tre pezzi di acqua marina infatti in questo banco c'era questa offerta molto interessante scegli tre paghi 5 euro io ho scelto questi tre pezzi di berillo valetta acqua marina voglio farvi notare che sono alquanto trasparenti alquanto grandi questo beh è un po' piccolino ma volevo farvi notare come effettivamente il colore non è proprio azzurronio ok vedete che una volta posto sullo sfondo bianco non si nota quasi il colore azzurronio siamo quasi sostanzialmente lagoscenite ok non sono delle vere proprie acqua marine cariche però per 5 euro poi questo venditore qua ogni anno acquisto qualcosa volevo comprare anche qualcosa quest'anno anche perché capite ragazzi che queste persone hanno dei costi per tenere il banco è meglio tenerseli molto stretti sempre medesimo banco sempre medesima offerta tre pezzi di topazio provenienti dal messico ah non vedete questi invece provengono dal pakistan ok di nuovo tre pezzi 5 euro di nuovo interessanti niente di assurdo questo vedete che addirittura era un pezzo segato quindi probabilmente era già lo scarto di qualcun altro ma non in caso 10 euro tre pezzi tre pezzi per fare degli esperimenti secondo me ci poteva stare non era questo migliore che ho avuto in fiera infatti uno di questi migliori che ho avuto in fiera è questo qua infatti la venditrice doveva darmi un euro di resto ho detto ma senti un po' per un euro io mi prendo un altro cristallo grezzo e le ho scelto questo bellissimo cristallo di iddenite parliamo di un minerale molto difficile da tagliare ma come vedete come è abbastanza interessante per via del colore e soprattutto della trasparenza per un euro secondo me è un fantastico acquisto tutti questi minerali poi voglio mostrarvi all'interno di video di youtube chiaramente uno dei migliori acquisti che ho fatto in fiera è stato questo lotto di iolite parliamo di un minerale molto fascinante un minerale che sulla base di come lo si ruota vedete qua ha un colore violaceo marroncino e diventa invece un colore viola blu intenso in poche parole varia il suo colore sulla base orientazione della luce che viaggia all'interno del cristallo ne ho comprato un po' considerate che in questo caso specifico li ho pagati in circa 12 euro scegliendole una ad una proprio per realizzare delle gemme molto affascinanti finalmente sono riuscito a mettere le mani anche su due cristalli di tanzanite in questo caso scaldata provenienti dalla Tanzania anche la iolite proviene dalla Tanzania mi sono indicato dirvelo mentre questa iddenite proviene dal Madagascar ecco che queste due tanzaniti mi mancavano proprio di nuovo per farvi del video qui sul canale infatti ne arriva una playlist dove video dopo video vado a lavorare diversi materiali grezzi provenienti a tutto il mondo però chiaramente per realizzare la playlist ho bisogno di materiali ultimo ma non ultimo guardate che bellissima ametista che ho acquistato questa ametista proveniente dal Mozambico di nuovo in questo caso valeva mi pare circa 50 centesimi un euro al grammo quindi qua all'otto considerate che pesano circa 80 grammi e di conseguenza l'ho pagato 40 euro 50 centesimo al grammo sono dei cristalli veramente molto belli sono alquanto zonati proprio interno appunto il colore però secondo me ci stava guardate che bella pezzatura qua escono delle gemme veramente grandi e affascinanti ultimo ma non ultimo guardate ragazzi cosa ho acquistato dei piccoli 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 smeraldini e questi smeraldini qua pagati 6 euro in totale provenienti dalla Colombia molto piccoli ma soprattutto voglio farvi notare come ah finalmente ho messo le mani su degli smeraldi da mostrarvi all'interno del canale e poi vi ho fatto uno scambio tra una mia gemma e un mio amico il quale saluto per questo pezzo di violano piemontese volevo farci degli esperimenti e questo è uno spoiler a futuri video quando parliamo di menale grezzo di che cosa stiamo parlando? parliamo sostanzialmente di un materiale lapideo in questo caso specifico io lavoro principalmente su materiali inorganici minerali, cristalli inoltre questi minerali devono possedere una serie di caratteristiche le quali ho già approfondito video per video all'interno di questa playlist queste caratteristiche sono fondamentali per realizzare una gemma sfaccettata di pregio e di conseguenza di valore innanzitutto abbiamo come prima caratteristica il colore del minerale grezzo infatti una gemma di un bel colore rosso, blu, verde quali possono essere ad esempio un rubino, uno zaffiro rispettivamente uno smeraldo rispetto ai colori che ho appena citato effettivamente sono gemme che nel momento in cui possedessero sia il colore ma anche un'elevata trasparenza potrebbero avere un valore considerevole una terza caratteristica fondamentale è il peso, la pezzatura sostanzialmente la dimensione di questi minerali grezzi tenuto conto che possedono un bel colore e un'elevata trasparenza qualità che ho appena descritto precedentemente queste tre qualità mischiate insieme a un buon taglio che riesca intanto a eliminare i difetti presenti nel minerale grezzo purtroppo abbiamo difetti all'interno dei minerali talvolta quindi limitare il loro apporto al valore finale sostanzialmente eliminandoli portano questo minerale grezzo a diventare una gemma sfaccettata di pregio portano un minerale grezzo da pochi euro comprato in fiera anche a centinaia di euro una volta che la gemma viene sfaccettata anche perché durante il processo di sfaccettatura non è una semplice trasformazione che il minerale grezzo subisce bensì è una vera e propria valorizzazione aggiunge valore è un surplus è un vero e proprio lavoro dal punto di vista perché non tutti i minerali grezzi diventeranno delle gemme sfaccettate di pregio perché magari non si riesce a avere a che fare con le inclusioni vengono a giorno nuovi problemi durante il taglio e di conseguenza la gemma terminata è sostanzialmente un compromesso spesso volentieri il privato non riesce a comprendere magari alcuni trucchetti che il tagliatore ha utilizzato magari per nascondere una frattura lungo la cintura dove non si vede molto oppure la zonatura l'ha limitata nel padiglione dove di nuovo non si vede molto però il gemmologo sappiate che c'è tutti questi problemi li vede bene li vede al microscopio gemmologico li indica sui certificati e soprattutto fornisce un valore giusto alla gemma quindi coloro i quali sono qui e sono interessati a questo argomento non sono gemmologi sapete che sono in un luogo giusto per imparare qualcosa di nuovo su questi fantastici materiali ora però passiamo a vedere la trasparenza di questi materiali e proprio il motivo per cui li ho acquistati guardiamo sulla tavoletta luminata velocemente questi materiali notiamo subito nella metista uno splendido colore una generale assenza di difetti proprio interno ma guardate come in questo cristallo è presente una fortissima zonatura di colore vedete che il viola non è ugualmente distribuito all'interno del cristallo in alcune porzioni invece è più sbiadito dove si vede proprio che è direzionato probabilmente sono degli accrescimenti da parte del cristallo quindi questa zonatura di colore è stata prodotta durante la crescita cristallina e andando a vedere con cura tutti questi cristalli o quasi sono distribuiti sono caratterizzati da queste alternanze di colore chiamate zonature qua addirittura si vede anche una nuance di marroncino guardate questo cristallo quanto è chiaro che ha delle alternanze di colore poi bisogna stare molto attenti perché durante il taglio bisogna cercare di limitare queste zonature o addirittura sfruttarle per riuscire a estrarre delle gemme con un colore o zonato fatto opposta perché magari è piacevole e desiderabile oppure potrebbe inficiare moltissimo sulla lavorazione queste ametiste sono molto belle, sono molto grandi non le ho pagate moltissimo però sono molto zonate chiaramente in fiera dovete immaginare che non avete una tavoletta illuminata come questa dove potete vedere i cristalli uno a uno sarebbe molto bello ma non si ha ed è uno dei difetti all'interno del contesto di fiera arriviamo quindi a uno dei minerali più interessanti che ho acquistato appunto queste ioliti qui vedete chiaramente come cambiando orientazione al cristallo cambia il colore varia da questo marroncino a questo blu intenso e di conseguenza di nuovo questo blu intenso si vede molto bene su questa pietra qua più grande guardate come cambia colore da un blu a un marrone da un blu a un marrone e di nuovo un blu quindi questo minerale si dice che è pleocroico poche parole sulla base della direzione in cui noi giriamo il cristallo cambia drammaticamente il colore e di conseguenza influirà moltissimo sull'orientazione della pietra questi minerali li ho acquistati proprio perché sono alquanto rari e soprattutto e soprattutto desidero mostrare in futuri video come orientare le gemme è una caratteristica fondamentale per alcuni materiali tanzanite tanzanite alquanto piccolina ma acquistata a una quindicina di euro 7 euro a pezzo e considerate che i pezzi migliori erano già stati venduti il venerdì io sono andato purtroppo domenica per fare gli affari migliori ma andare venerdì significa avere la scelta maggiore cioè il venditore appena arriva tutto il materiale e soprattutto in questo caso specifico se acquisti intero lotto lottine un buon costo invece di sotto in fiera la bellezza è quella di scegliere pezzo per pezzo facciamo velocemente una carrellata di topazzi qua si vede chiaramente proprio in interno di questo topazio grande le inclusioni fluide ma per il prezzo che l'ho pagato secondo me comunque è ancora ci sta andiamo a fare una carrellata degli altri minerali qui abbiamo le apatiti apatiti che per fortuna non sono zonate anche se cambia leggermente il colore rispetto una direzione all'altra da un giallino verdognolo a un verde più intenso il che secondo me è molto interessante leggermente zonate ma non troppo parlando invece dell'idenite anche questo cristallo molto trasparente questo l'avevamo già visto precedentemente mettiamo da parte le nostre tre acquamarine qui si riesce a dedurre che comunque hanno un colore tendente all'azzurro però siamo più vicini secondo me alla questione della gosce nitte più che dell'acquamarina e di nuovo i topazzi topazzi senza lode e senza infamia smeraldi parliamo di smeraldi scelti uno ad uno molto trasparenti colore purtroppo non molto intenso forse questo è quello che ha il colore più intenso questo è quello più sbiadito e gli altri due invece in media inoltre qua c'è una generale zonatura vediamo questi minerali su questa tavola retro luminata proprio per farvi vedere meglio i colori soprattutto le zonature di colore proprio interno il quale tendenzialmente è un difetto e inoltre vedere eventuali fratturazioni in questo caso smeraldi fatto un buon acquisto secondo me e in ultima battuta abbiamo le nostre tre tormaline acquistate con i colori differenti gli uni rispetto agli altri vedete che ci sono diverse gradazioni di azzurro da un azzurro più intenso e via via più carico rispetto ad una tonalità verde fino ad arrivare a un verdognolo ok tormaline secondo me molto carine 3 euro l'uno è stato secondo me un prezzo onesto 9 euro in totale soprattutto perché sono tormalini di coliti sostanzialmente pulite bisognerà probabilmente fare dei tagli lunghi però guardate sono sostanzialmente liberi da qualsiasi tipo di inclusione forse questa è leggermente inclusa solo quando siete in fiera mi raccomando ragazzi in cui voleste acquistare dei minerali tenete sempre presente di richiedere al venditore la provenienza segnatela su un bloc note segnatela sul blocco note del vostro cellulare infatti oltre alle caratteristiche che ho citato precedentemente è fondamentale parlare di origine in sostanza dove è situata la miniera originale di questi materiali in quanto una volta che la gemma verrà realizzata sarà fondamentale porre tre informazioni sopra la scatoletta e innanzitutto il tipo di minerale la varietà mineralogica per esempio quarzo metista il suo peso in carati per esempio due carati e mezzo e soprattutto ultime informazioni fondamentali origine per esempio Brasile queste informazioni le andrete a ricavare nel corso anche del taglio ma soprattutto la prima e soprattutto la terza quindi la varietà di minerale e soprattutto la miniera non sono scritte da qualche parte su un certificato correlato spesso questi materiali li andrete a scegliere one by one cioè uno ad uno in fiera attraverso i vari banchi e non c'è un vero e proprio biglietto meno che il venditore molto gentilmente non ve lo fornisca durante la vendita però tenete presente che sono tenuti a fornirvi la filiera del materiale quanto questa informazione sia vera o falsa chiaramente si dà per scontato che sia vera al momento in cui il venditore che ti è di fronte è una persona onesta quindi su questo non andiamo ulteriormente ad approfondire però sappiate che questa informazione c'è l'origine tutti richiederla voi al venditore perché lui di solito non è tenuto a dirvela potrebbe essere gentile a dirvela ma non è tenuto a dirvela però a voi è importante richiederla perché al momento in cui volesse vendere la gemma non sapete l'origine non è proprio il massimo perché i gemmologi chiaramente potranno confermare qua sotto nei commenti ci sono alcune inclusioni alcune caratteristiche all'interno della gemma che possono portare a pensare sull'origine di quel materiale nel momento in cui voi vi fosse inventati l'origine non corrispondessero capite che siete un po' circa un problema in questo video in particolare voglio parlarvi di costi tenete presente che all'interno di una fiera voi non potete portarvi la bilancia invece viene fornita dal venditore dovete chiaramente richiedere il peso ma quando acquisterete minerali grezzi come questi a taglio è molto consueto pesarli anche perché vengono venduti un tot al grammo in questo caso specifico per quanto riguarda queste apatiti queste tre tormaline ecco che sono state vendute a pezzo a prescindere dal loro peso in questi banchi è consueto fare buoni affari ok? specialmente scegliendo i cristalli da taglio perché non vendono preferenzialmente i cristalli da taglio vendono cristalli magari per cristalloterapia ma alcuni di questi possono essere tagliati e di solito se riuscite a acquistarli senza bautare il peso è meglio perché così potete scegliere cristalli grandi altrimenti questa apatiti probabilmente le avrete pagate 30 euro l'una cioè così facendolo pagate 5 euro andando a pesarle in questo caso di solito si usa il grammo per quanto riguarda l'acquisto di grezzo e poi il carato invece per quanto riguarda l'acquisto di gemme siamo sui 9 carati quindi indicativamente siamo su 1 euro e 10 al grammo secondo me è un ottimo prezzo passiamo invece a vedere le tormaline in questo caso le tormaline siamo a 1 grammo e 2 probabilmente ne estrarrò circa mezzo grammo in totale quindi si parla di 3 carati di tormaline tagliate forse un carato tormalina se sono fortunato di nuovo in questo caso specifico andiamo a ripesarle velocemente 1 grammo e 2 pagate 9 euro ecco qua sono all'incirca intorno a 8 euro al grammo secondo me è di nuovo un prezzo molto buono considerando soprattutto il fatto che lo scelte 1 a 1 parliamo di indicoliti ecco in fiera nel caso in cui riuscite a mettere le mani su materiali del genere vedete che non sono mai in quantità importanti per formare delle vere e proprie valigette da taglio soprattutto da portare in gioielleria però obiettivamente quella a qualcosa a buon prezzo riuscite a trovare perché vedete che qua riuscirò a estrarre sostanzialmente 3 gemme e qua probabilmente riuscirò a estrarne 2 grandi sono 5 gemme in totale però con 19 euro sicuramente riuscite a andare in guadagno andiamo a vedere soprattutto questi smeraldini qui qua parliamo di 0,8 grammi pagati in circa 6 euro quindi siamo indicativamente a 7-8 euro al grammo secondo me è un super mega affare scelti all'interno di un case con moltissimi altri smeraldi di più bassa qualità e più grandi ma per quello che devo farci io sostanzialmente farvi vedere nei video tagliare smeraldi e magari poi chiaramente portare in gioielleria vedete che la ricarica comunque è presente bisogna però aggiungere un processo di lavorazione notevole e questo non lo nascondo ma su questo canale vedete come proprio vi insegno a tagliare materiale per materiale questa metista siamo su 80 grammi quindi mediamente quindi siamo sui 50 centesimi a grammo secondo me ci sta anche se c'è la metista più bella quanto mi hanno detto alcuni miei colleghi è un euro al grammo ma vi fornisco questi prezzi per farvi capire anche un confronto se vi stanno fregando in fiera oppure semplicemente il materiale in questo periodo è caro considerate questi materiali i prezzi variano molto in fretta per quanto riguarda i topazzi invece siamo sui 9 grammi quindi all'incirca siamo sui 2 euro al grammo ci sta è basso ma del resto questo era in offerta 3 pezze 5 euro non mi aspettavo niente diverso come anche questa acquamarina diciamo più goscinita che acquamarina siamo indicativamente su 1 euro e 2 al grammo di nuovo anche questo prezzo comunque sono dei prezzi bassi ma il materiale ha una qualità mediocre quindi su questo ci stiamo questo topazio penso che vada fuori scala vediamo infatti va fuori scala bisognerà utilizzare un'altra bilancia per pesarlo comunque più di 20 grammi ma ci sta penso che fosse intorno ai 40 non è molto andiamo invece a pesare adesso le nostre ioliti siamo sui 7,3 grammi pagate circa 15 euro come ho detto prima quindi sui 2 euro al grammo secondo me tanta roba 2 euro al grammo per questo materiale scelto uno a uno tanta roba tanta roba anche perché effettivamente non avevo in collezione quindi ottenerlo per così poco secondo me è interessante e infine la nostra idenite 2 grammi quindi idealmente 50 centesimi al grammo perché ho pagato un euro questo è uno dei minerali che ho comprato facendo un maggiore migliore affare finora all'interno di questa fiera vedete comunque quanti materiali ho acquistato per in totale circa 150 euro mi stavo per dimenticare le tanzaniti andiamo a pesare le tanzaniti e siamo a un grammo e uno e le tanzaniti pagate abbastanza circa 14 euro al grammo non è proprio regalato però volevo portarvele sul canale queste due minerali molto molto belli poi adesso va tanto di moda infatti come notate la mia interpretazione è stata quella proprio di utilizzare questi materiali i più vari possibili proprio per far tanti video su questo canale nella playlist dedicata che è in arrivo e ragazzi se il momento in cui fosse curiosi di un altro tipo di unboxing di acquamarina e topazzi e delle loro caratteristiche in colore trasparenza andiamo a vedere alcuni strumenti tra cui la tavola elettroluminata per osservarne meglio inclusione interna difetti vi lascio qua sopra il video in dettaglio proseguiamo all'interno di questa playlist la scoperta dei minerali grezzi di acquamarina